Si parla ancora molto poco in Italia delle cosiddette smart city o città intelligenti ma è allo stesso tempo vero che tutti gli investimenti che si stanno facendo nelle connessioni ultraveloci e nello sviluppo di servizi sempre più all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e che sfruttino e che siano in grado soprattutto di sfruttare al meglio queste connessioni ultraveloci vada senza dubbio nella direzione di arrivare prima o poi a realizzare anche in Italia delle città intelligenti e qui si torna sempre allo stesso punto ossia che si possono fare tutte le scoperte che si vogliono ma se poi la maggior parte delle persone non vuole usarla questa novità o in questo caso non vuole viverci all'interno di questa novità ecco che la strada si fa decisamente tortuosa e non è detto poi che gli investimenti continuino in questa direzione ed è proprio per questo motivo che ho trovato molto molto interessante un articolo che rappresentava il parere dei cittadini americani a riguardo delle smart city attraverso dei risultati di un sondaggio il tutto è particolarmente interessante secondo me perché fa emergere degli spunti di riflessione anche non poi così consueti e che possono dar vita a un dibattito molto interessante quindi vi invito sia a commentare qui sotto con quello che pensate voi di questi risultati ma soprattutto citerei che rispondiate voi stessi a questo sondaggio attraverso le domande che vi lascio qui sopra nelle schede ok partiamo dalla primissima domanda che è anche quella più scontata ossia vorresti vivere in una città intelligente? il 66% degli americani ha risposto di no e questo è un dato abbastanza curioso perché fa il pari con il risultato della seconda domanda che è ma internet e la tecnologia hanno migliorato la tua vita? a questa domanda infatti l'81% delle persone ha risposto di sì quindi il problema non è la tecnologia in sé ma dove viene applicata nel senso che da questi dati risulta come faccia molta paura l'applicazione della tecnologia su grande scala e sull'intera società perché ovvio che la creazione di una smart city fa sì che si crei un vero e proprio ecosistema fisico tangibile in cui uno può realmente viverci dentro in cui tutto segue in un certo senso le leggi della tecnologia ed è emerso che questo fatto sarebbe dovuto a tre principali fattori la sicurezza dei dati infatti è emerso come il 65% circa delle persone intervistate non siano disposte a dare informazioni strettamente personali come può essere per esempio la propria cartella clinica al fine di poter migliorare la propria assistenza sanitaria le opportunità di lavoro in quanto il 60% crede che lo sviluppo delle intelligenze artificiali porti ad una diminuzione dei posti di lavoro per noi esseri umani e infine la regolamentazione da parte della politica in quanto il 72% degli intervistati crede che i politici non siano in grado di stare dietro al ritmo di sviluppo velocissimo della tecnologia in conclusione quindi questi sono i dati che ci giungono da oltreoceano e come detto secondo me sono veramente molto interessanti e spero davvero che aprano un dibattito qui sotto e nel sondaggio che vi ricordo essere qui sopra nelle schede e ora come anticipato prima non mi resta che aspettare i vostri risultati per poi poterli commentare insieme da qualche giorno grazie a tutti